alle otto e mezza quando porti la bambina a scuola devono venire sopra il terrazzo perché deve passare per far passare delle cose e gli ho detto di sì intanto al limite se anche puoi uscire regolo su intanto c'è il Nawa capito no non stessati anima ti avviso mi fanno salire basta va bene ma questo è un aspetto di solo di muro di minchiate il bambino a 180 all'ora è pazzesco cammina come quando con serpetti questo è il cavallo questo è un manto è un manto è un manto è il numero uno è il numero uno la madonna mi ha fregato due macchie figa se vi alza dio cane 230 cavalli di macchina non glielo fa a stare dietro una panna cioè questo qui è una panna pazzesca io mi avevo visto che lo devo fermarlo che cacchio ti ha fatto sta panna mi ha messo un bottone del pochi mi ha messo un pochi mi ha messo un pochi mi ha messo un pochi guarda guarda 200 all'ora guarda il passo 200 all'ora un bottino 200 all'ora panda 200 all'ora panda 200 all'ora no vabbè ma è truccata 220 il panda che fa via 220 c'è qualcosa che non è possibile cioè 210 210 panda guarda panda la panda è 210 no vabbè truccata ok dove sono cada fine è freddo è stai il è va mentre è se negli bell è è